Questa è un'avventura molto spettacolare e bella perché stiamo attraversando da Torino a Venezia e Nord Italia costeggiando il fiume Po su un percorso che si chiama, definito come nome, Vento, cioè Venezia-Torino un percorso che è stato realizzato da Politecnico di Milano abbiamo visto dei panorami stupendi nelle nostre terre che altrimenti forse non avremmo mai scoperto l'occasione è stata poi molto piaceva, un'occasione per stare tutti insieme noi che abbiamo questa patologia del Parkinson e che aderiamo a questo progetto che è capitanato da Stefano Guidotti, Parkinson Sport cioè lo sport come integrazione nella cura della nostra malattia lo sport come mezzo per condividere assieme agli altri parkinsoniani un percorso che ci porti ad avere una qualità di vita che sia il più possibile piena e gioiosa Parkinson è una malattia che purtroppo dà degli stati psicologici difficili spesso accompagnati da depressione e in più ci sono limitazioni fisiche che possono condizionare molto la vita del paziente soprattutto dopo tanti anni di patologia noi proviamo a rispondere in questo modo e questo ci rende persone che possano vivere bellissimi momenti nonostante siamo alla fine dei malati e questo ci rende persone che nonostante